Sono San Giorgi Carla, via Gorissia 163. Questa è la mia macchina che non va più. L'acqua è arrivata da qua, guarda, qua, tutta dentro, perché ce n'era un metro e mezzo, e dappertutto e non si va più. Questa qua era tutta la mia roba che avevo, è tutto da buttare via, appena ho comprato il pallet per l'inverno, e anche qua, vieni a vedere. Allora, vado piano, perché sennò... Ma vai a vedere. Questa qua ha tutto da buttare via, tutto da buttare via, e poi il mio canyon, che faccio l'ambulanza al mercato. Cos'è che fa? Fammi, non ho capito. Guarda, il cambio d'acqua è entrata fino qua in alto, e non ho ancora potuto capire se c'è qualcosa di salvabile. Il cambio non va più, perché l'acqua è arrivata anche qua, dappertutto, e anche qua dentro, fino qua. Guarda, fino qua, e poi questo era dove stava il mio canyon, e adesso i ragazzi della protezione civile ci hanno riuscito a togliere, che c'era quasi 50 centimetri di fango qui dentro, e però è tutto da buttare via, anche il pallet che l'avevo appena comprato, tutto da buttare via, adesso domani se ci aiutano ancora, e questo è quanto, adesso qui non sai, il cambio non va più, la macchina non va più. 163, quello è il numero dell'officina, nel mercato. o reduction o�도, ha pol threaten, e per di una, quindi no dominare eccellini, la macchina non va più, perché si samefissima di softi, la macchina non va più, ma più sbagliare, che c'è la macchina non va più, per di avere più, diν Truffi, dietro, sindaco, ma poi che seificarre, sento fino a un po' dionder il maestro. Se siete nuovi commenti sulla tavola, bei un la celebratezione i anz springscessi qua in achieve di permettere di drew kidsa un grande, Grazie ragazzi, bravissimi.